30 anni di rapporti con l'Andrangheta e un tesoro da 45 milioni, sequestrati anche in Florida per i fraterni Berna, operazione che ha portato ieri al sigillo ad un tesoro di oltre 45 milioni di euro e le attività imprenditoriali dei due fratelli Francesco e Demetrio Berna, il primo in passato presidente Anci Calabria, il secondo ex consigliere comunale di Reggio Calabria nel 2002 e nel 2007. Demetrio Berna inoltre era stato anche assessore al bilancio nel biennio 2011-2012. Leader nelle costruzioni in città costruivano anche con tecniche all'avanguardia e rifiniture di primissimo livello, nel cuore di Reggio e in ogni periferia, spendendo il nome della cosca Libri. Questi dettagli è emersi nel corso della conferenza stampa, secondo gli inquirenti i loro beni sono il frutto della protezione loro accordata dalla potente cosca d'Andrangheta Libri, nel corso della quale è emerso come il collaboratore di giustizia Enrico De Rosa, parlando dei fratelli Berna, riferisce che si scrive Berna ma si legge libri. Gli stessi collaboratori di giustizia, sei dichiarazioni parallele, gli indicano come espressione della mafia regina. Ancora il pentito Enrico De Rosa dirà così alla pull antimafia, Francesco Berna aveva avuto una bella spinta con degli appalti a Torino diversi anni fa, lo abbiamo mandato che era un numo accuso a prendere appalti a Torino. In conferenza stampa il direttore della divisione anticrimine della Polizia di Stato, Messina, ha messo in evidenza come la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato sta attuando da anni una strategia finalizzata a colpire i patrimoni illeciti accumulati dalle mafie utilizzando sia i sequestri penali che le misure di prevenzione patrimoniale. Per Giuseppe Linares, dirigente centrale dei servizi anticrimine, la visura di prevenzione a carico dei fratelli Berna è una foto che racchiude un trentennio di attività.